Si intitola più fragili dopo la tempesta ed è l'indagine promossa da CGL Cisle Will Lombardia in collaborazione con l'Associazione per la Ricerca Sociale di Milano, promotori dell'osservatorio regionale sulla terza età. Ad essere preso in esame è un campione che va dai 55 anni di età in poi e i dati raccolti fanno decisamente pensare soprattutto alla luce di quello che la pandemia è significata per gli anziani in termini di disagio sociale ed economico, con riflessi legati a caduta sulla sfera della salute di una fascia di per sé già vulnerabile. Tradotto, abbassamento del potere d'acquisto più ricorso alla sanità privata a causa delle liste d'attesa troppo lunghe uguale ad innalzamento delle malattie. Abbiamo parecchie persone anziane che rinunciano a curarsi, rinunciano alla prevenzione, abbiamo il dramma delle persone nelle case di riposo per le quali purtroppo al momento non ci sono alternative sufficientemente validi per essere prese in considerazione dalle famiglie che però si trovano con una socialità che non è quella che c'era prima del Covid, ancora oggi nonostante teoricamente tutti abbiamo tolto la mascherina e tutti sembriamo muoverci più liberamente, non è così. Le persone che sono andate in pensione sono andate comunque con un assegno mensile che è ridimensionato rispetto a quello del lavoro e questo assegno mensile ogni anno perde il potere d'acquisto. Da non dimenticare che per anni e ancora oggi sono spesso gli anziani a sostenere le sorti del welfare familiare utilizzando i risparmi di una vita per sostenere quei familiari che avevano perso il proprio lavoro durante le crisi del 2001 e del 2007. Ecco, il fenomeno è sotto gli occhi di tutti e su scala nazionale e l'Italia sta invecchiando. Il fatto è che ad un crescere della popolazione più anziana c'è una diminuzione degli anziani che invecchiano attivamente. 46 su 100 invecchiano attivamente, ma questo accade solamente a chi è nelle condizioni di poterlo fare. Chi è nelle condizioni di povertà purtroppo si autoreglude. Non c'è più quello che noi chiamavamo l'invecchiamento attivo dove una persona comunque continuava ad avere un suo ruolo sociale, un suo ruolo da sviluppare nella società. Ecco, parlando di servizi e sanità invece, 6 anziani su 10 non li utilizzano questi servizi. Allora la domanda è, ma esiste la coscienza dell'esistenza di questi servizi? Oppure ci sono altre ragioni alla base di questo non utilizzo dei servizi? Purtroppo il vatellinese medio preferisce essere autonome e non chiedere. Quindi spesso e volentieri quando ci sono delle possibilità o non sono conosciuto per vergogna non si accede a quelle cose. D'altro canto però quando io devo fare un esame e mi trovo una prenotazione che va fra un anno, un anno e mezzo, qualcuno prenota, qualcuno se ha le risorse va nel privato, qualcun altro rinuncia perché non sa neanche se fra un anno e mezzo sarà ancora più. E oggi ne pagano le conseguenze i cittadini più di prima semplicemente perché vi è un'ulteriore spinta verso il privato. In tema di sanità un nodo ancora troppo intricato è quello della prossimità, molto lontana dal diventare una realtà concreta e funzionante. Spesso per le persone anziane l'unica alternativa per coprire alcune distanze è il ricorso all'utilizzo dei mezzi pubblici. I mezzi pubblici che sono assolutamente insufficienti, che ci sono solo per una certa parte dell'anno legata all'anno scolastico ma che hanno di fatto degli orari che sono tarati su quelli che sono gli orari di studio e quindi la persona anziana che ha un appuntamento a mezzogiorno arriva a Sondrio o a Morbegno alle 8 di mattina quando ci arrivano gli studenti e poi deve magari aspettare alle 5 della sera per poter tornare a casa.